La maleducazione non dovrebbe far parte della nostra società, è una città bella come la nostra che è aperta a tutti, ai giovani, alle famiglie. È una città viva e merita comunque il rispetto. Le attività economiche lavorano, lavorano bene nel rispetto delle regole. Gli avventori dovrebbero almeno avere la decenza di tenere pulita la nostra città. Ma come si può avviare a questo problema comunque? È chiaro che c'è un piano anche di rivalutazione di quelli che sono i bagni pubblici, che il collega ai lavori pubblici sta portando avanti. Però il principio cardine è quello dell'educazione dei cittadini. Chi usufruisce dei servizi del bar trova comunque se vuole il bagno all'interno, non capisco perché bisogna utilizzare le vie del nostro bellissimo centro storico come un urinatoio.